bene bene salve a tutti Vincent Warlike e benvenuti nel mio canale continuiamo la campagna dobbiamo passare il turno quindi facciamolo subito intanto il nostro capitano sta arrivando dalle nostre parti Wolfgang ok i fantasmi vengono a disturbarci si sta creando un'altra forza nei vampiri se non ho visto male ok forse riusciamo a prendere gli skyling di sorpresa danneggia le mura fallimento va bene danneggia le mura successo ok guardiamo un po' che cavolo ha danneggiato non si capisce che cos'è danneggia le mura questo cos'è questo trunzone che è tornato indietro va bene se ne starà qua bello bello più che è successo il mago che è stato bloccato il nano allora guardiamo qua possiamo reclutare qualcosa no solo il globale beh non ci conviene troppi soldi qui in locale possiamo farlo chi possiamo reclutare però no per un momento lascerei così allora continuiamo a reclutare invece per siegfried alla bagneri quattro ok bene guardiamo se riuscissimo nel caso a bloccare i norsca dobbiamo assolutamente cercare di prenderli vorrei riuscire ad andare a fare una battaglia con i norsca ok quindi a questo punto direi che possiamo passare il turno qua cosa si può reclutare nell'averland balestrieri lancia scudo alabardieri e pistolieri ok andiamo avanti guardiamo un po cosa accade cosa c'è caro Bretonio termine l'accordo cominciare con me maledizione non ci voleva mi dispiace ok dobbiamo andare verso l'ultima cosa allora dichiara guerra questo mi ha dichiarato guerra maledizione questa cosa non ci voleva chiediamo aiuto ai nostri alleati chi ci appoggia l'aukland e il visland neanche i nani ci hanno appoggiato maledizione va bene facciamo attenzione quindi andiamo in lotta con altre fazioni vampiro ok un agente cerca di attaccarci intanto cerca di scappare insediamento sotto assedio si invagno occidentale si invagno occidentale si invagno occidentale allora vai che tale allora si mette il soldo assedio ma anche il Nagash ha limiti la natura si riuscita un'occasione unica per demolire l'esercito dei vampiri intanto diamo un'occhiata un attimo qua dove cavolo sono qua in mezzo sono i gli altri vampiri guardiamo prima se riusciamo a beccare questi strunt che non faranno in seguimento all'infinito quindi mettiamoci di qua perchè non voglio che passino di qua ok e a questo punto andiamo a fare un'altra battaglia eh siamo un po' rovinati però dobbiamo approfittarne ragazzi dobbiamo approfittarne che cacchio c'ho dai ma che cacchio c'hai ma no cosa no no not in my name I don't agree onwards Sigma forbids this non capisco perchè to the provinces questa azione non ha mio consenso e noi lo dobbiamo fare con il nostro lord dai cacchia roda guardiamo se qui ok abbiamo la supremazia quindi va bene ah però abbiamo la guarnigione e non il nostro alleato non i rinforzi eh va bene andiamo in battaglia ragazzi allora questo è lo schieramento e mentre qui entra il nostro esercito di rinforzo ok messi male anche loro va bene ok cerchiamo di fare uno schieramento veloce quindi ok mettiamoci a proteggerci questo fianco mettiamoci qua poi si qui controllo nel si torri facciamo attenzione qui c'è dei fuochi fantui siamo nelle paludi della morte la mia la mia ...mine! ...Zombie Loopy... ...Rank's guard Knights! ...Sigma! ...Creatures! ...In the sky! ...I am prepared! ...Save us! ...Light is night! ...Okay... ...Manus! ...Ready for war! ...Illumination upon them! ...We are Sigmar's heirs! ...Yes, my lord! ...Sigma! ...Sigma calls! ...Light wizard! ...Aluminous calls! ...At speed! ...Spearmen! ...Yes, General! ...Sir! ...Okay... ...We are Sigmar's heirs! ...Alberdias! ...Sigma calls! ...Alberdias! ... ...Take aim! ...Law! ...Ready! ...The ground's... ...Wegedron! ...Handgunners! ...Understood! ...Yes, General! ...Sir! ...Sir! ...Charge! That's an order! Withdraw! Sigma! Preserva! Illuminas calls! Alvajos! Call, friends! And they! This is my command! Sigma! Awaiting orders! Take position! For the Emperor! Withdraw! Sigma! Preserva! Reserva! Dai, avanti, ragazzi! Weapons at the... Sigma! Ready! Calvadiers! Swordmen! Crossbow! Jazz ready, general! Famish! To me, men! For the Emperor! Spearmen! Swordsmen! Sigma! To me, Marko! King Marko! Soldiers of the Empire! Spearmen! The wings blow strong! Illumination above them! Becoming! By Ulrich's wrath! Moving! Reichsguard! For Heldenhammer! Head for battle! That's an order! My rule is absolute! Ma che cacchio è? HOLDENHAMMER! C'è due lupetti, dai, oh, ragazzi! C'è non si può... Perdere per due lupetti, eh? SIGMAR'S HEIRS! Crossbows ready, general! Handgunners! Fire! The Empire! Yes, general! Crossbow men! For Heldenhammer! I serve him! Witness the power of him! SIR! Take your name! Swordman! For Ultor! Die! To arms men! Ulrich's wrath on them! Yes, general! My god! The Empire! And just! Crossbow men! Standing by! Withdraw! SIR! Missiles will fly! SIGMAR PRESERVE US! Withdraw! At speed! SIGMAR PRESERVE US! Quick march! Illumination of them! Yes, I'm a nice fireman, I'm a good one of the zombies! Big, big mago! 3, 2, 1... No... No, it's not... Come on, we're falling, we're falling... State troops are ready! Ready! Withdraw! For the emperor's general! Ready to fire! Calvaryers! il mio lord è ferito, maledizione dai non ci credo che stiamo cadendo così come le perre ragazzi dai c'è un poche di osse ragazzi for the twin tail comet take aim albertius ready light of battle light is might the empire endures oh oddio che battaglia questa è la rovina ragazzi è la rovina se non sopredendiamo dai spara di casa dai ready sigma preserve us dai non ci credo su dai porca troia l'infero si 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 Grazie a tutti! Grazie a tutti! The wings blow strong! Crossbowman! Take aim! I serve hish! Withdraw! See to it! Come on! Light is might! Fight them! Come on! Swordman! This is flash for me! At speed! Sigma! Preserve us! For friends! Handgunners! Our weapons are yours! Swordman! Sigma! Preserve us! State troops ready! Yes sir! Swordman! Yes sir! Quickly! As long as we outnumber them! We will hold! Handgunners! Sigma calls! Sir! Taking position! Die! Withdraw! For the Emperor! For Helldenhammer! To battle! For Helldenhammer! For Helldenhammer! For Helldenhammer! For Helldenhammer! Seeking enemy! Lay them before they... All ranks! Fire! For Helldenhammer! Take their heads! The last great war of human! Handgunners! My god is Sigmar's god! Ulrich! Fly! Awaiting orders! Loaded sir! Keep Casper back! I promised his mother! Taking position! Yeah! Handgunners! Follow the wizard! Go! Swordman! Quick march! Fire! Fire! For the Emperor! Kill the Necromancer! Avanti! Oh ma poi c'è nessuno! Vabbè che sono gli scheletri! E' debilitata! Kill all! Vabbè che fuggono! Fino alla fine ragazzi! Fino alla fine! Fino alla fine! Anzi facciamo una cosa intelligente mettiamoci qua! March! March! Che chiedi? Un alto! Ok! Pericolo alto! Ok dai dai manca poco! Così nell'appo magari rallentano! No! Anzi facciamo una cosa! Alla fine! Maledetto bastardo! Non lo so! Non lo so! Che missillo del viaggiatore! Non lo so! Non lo so! Non lo so! Sperate il mago, mira il comando, sperate il mago Dai, dai, dai Vai, 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 grande Dai, l'ultima scarica ragazzi, la scarica Grande, grande, grande ragazzi, grande Dai, dai che lo portiamo a casa, l'abbiamo Wow, non ci credo, 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 non ci credo ragazzi Pesissima, pesissima sta battaglia, questa deciderà le sorti del futuro di entrambe le fazioni, non lo so Ok, terminiamo la battaglia Ok, va, vittoria di misura 968 uomini, comunque hanno fatto l'impresa Grande Giustiziamo i prigionieri Ottimo Armatura del coraggioso 5 armatura, bonus resistenza 10 Mi sa che questa armatura bisogna che la segniamo a qualcuno L'imperatore Karl Franz è ferito, quindi al momento dobbiamo prendere un'altra persona Conrad Autodifesa dagli eroi Beh, io direi di mettere Magnus Horl, visto che c'ha autodifesa dagli eroi più otto Visto che abbiamo quei cavoli di eroi che ci disturbano, anche se attacco e disciplina potevano essere più interessanti Ma al momento ho bisogno di questo tratto qua, autodifesa dagli eroi Quindi mettiamo Magnus Horl Ottimo Un piccolo manipolo di uomini in fuga, ragazzi Potrebbe essere la fine dei vampiri Potrebbe veramente essere la fine dei vampiri Quindi direi di accingerci ad eliminare Non possiamo farlo Ok, siamo sotto un incantesimo, a questo punto spostiamo questo schieramento nel castello di Campelos Ok, visto che è quello più dannezzato Magari teniamo Adesken questo schieramento qua Uff, ragazzi, era stata veramente una grande battaglia soffertissima Fino all'ultimo Pensavo di essere spacciato, poi alla fine siamo Quindi guardiamo un po' cosa dobbiamo da fare, reclutare, stiamo reclutando, guardiamo un po' dove è che siamo qua Ok, continuiamo a reclutare un nuovo esercito Fucilieri a gogo, ragazzi, visto che ci hanno salvato veramente il culo E poi Direi di concludere qua questo episodio, un'altra bella battaglia Ci vediamo nel prossimo, ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti